Tatiana, certo che un gol di testa in mezzo ai giganti austriaci in pochi se lo aspettavano. Sì, anche io in effetti non avrei mai pensato, neanche immaginandolo. Comunque sono stata contenta più che altro perché il mio gol era 2-0 e quindi ci allontanavamo un po' di più dalle avversarie, quindi è stato ancora più emozionante. Peccato poi che, non so, forse per nervosismo o robe varie abbiamo un attimo mollato, forse di tensione, così qualche baperà in più e ci siamo fatte infilare. Una partita pazza che però è finita bene. Sì, infatti, per fortuna abbiamo avuto il coraggio, la grinta, la determinazione, insomma abbiamo messo veramente tutto in campo. È stata una partita combattutissima, una guerra posso dire, però non abbiamo mai mollato e secondo me abbiamo meritato il risultato.